Siamo nei vigneti nella posizione esposta più a sud dove coltiviamo principalmente le uve rosse. La somma delle varietà totali compongono una cinquantina di ettari di vigneto dove sono suddivise principalmente a Pinot Nero dove coltivato un po' in tutte le posizioni va a comporre quello che è il prodotto di vinificazione in rosso, bianco, frizzante e sfumante, metodo classico. La restante parte viene suddivisa con le varietà autogno dell'Oltrepò, croatina, barbera, c'è Chardonnay che anche lui va a comporre la cuve del metodo classico e un blanc de blanc in purezza che uscirà a breve dopo almeno due anni di permanenza sui lieviti e la rimanente parte suddivisa con reslin italico e renano e un pochettino di malvasia per dare un attimino di scalarità alla vendegna. Siamo nella parte sotterranea della cantina dove viene stoccata la maggior parte del prodotto. Le bottiglie prodotte in un anno sono circa 100.000 di tutti i formati, ossia fermo, frizzante e 30.000 di metodo classico sfumante. Vengono poi destinate una piccola parte in legno per fare il pinot nero riserva e successivamente vengono invece poi destinate in versione ferma col tappo a vite, quello che oggi viene denominato Stelvin, il Riesling per fare un Riesling renano con il tappo Stelvin, il pinot nero rosso giovane. Io ho iniziato a fare le premie di bottiglie di metodo classico che avevo 16 anni nel 1991. È stato un po' un orgoglio personale, una fissazione che avevo con me stesso di arrivare a produrre dei metodi classici in Italia con caratteristiche e con una forte gara con gli champagne. Ho fatto le prime 5-6.000 bottiglie nel 1991, la prima vendemia con la prima pressa nuova a polmone che era un po' la novità in quegli anni e mi ha consentito già di avere i primi buoni risultati. Da lì siamo andati avanti una decina d'anni costruendo, poi la svolta è nata nel 2010 quando abbiamo iniziato a fare le prime vendemie con la pressatura delle oventere, poi nel 2011 la prima vendemia col professor Valentino dell'Università di Milano e dove ancora lì abbiamo continuato ad affinare e da utilizzare i maggiori accorgimenti per arrivare a un risultato eccesso. Andiamo a degustare una delle nostre bollicine più importanti che è il Pino Nero metodo classico con Pino Nero in purezza. Questo viene fatto dal vigneto più vocato, un vigneto che per le le caratteristiche fedoclimatiche che ha raggiunge la maturazione anche dieci giorni dopo le altre vigne da base spumante dove poi il risultato lo andiamo a vedere nella bottiglia. L'azienda è iniziata nel 68 con mio papà, mio zio e mia nonna. L'azienda aveva all'inizio un indirizzo duplice, ossia vigneto e cereali, foraggi. Successivamente ci è spostati nell'80 con un cenno, chiamiamolo così, alla frutticoltura. Alcuni contributi pubblici hanno incentivato il discorso frutticolo in oltre po' che purtroppo ha avuto un successo di 10-15 anni perché il prodotto non riusciva ad essere valorizzato. Successivamente quindi dopo il 95 siamo partiti con la coltivazione della vite come monocultura. Io ho intrapreso gli studi all'istituto agrario, poi all'università, però già ancora prima di finire gli studi cercavo di portare avanti il discorso dell'azienda e della crescita dell'azienda. Il forte salto è stato fatto dal 2001 al 2010 dove siamo riusciti ad ampliare la superficie aziendale con l'acquisto di terreni vicini che ci sono dimostrati liberi e con l'ampliamento della cantina che è partito nel 2002 e finito nel 2004. Da lì siamo arrivati a dare un impronto un po' più importante ai prodotti di qualità e da dare una direzione all'azienda per una crescita verso prodotti diversi e che si distinguevano dai numeri e dai prodotti più standardizzati che circolavano per le varie aziende dell'oltre poco. Siamo poi arrivati negli ultimi anni dove abbiamo inserito ancora prodotti nuovi lavorando soprattutto sul pino nero con i prodotti della versione rosso arrivando ad avere il prodotto riserva al primo nato Vendemia 2016 e il pino nero rosso giovane che è quello che è uscito con la prima Vendemia nel 2020. Vi aspettiamo in azienda per una degustazione guidata dei nostri prodotti e visita guidata all'azienda e degustando anche i prodotti tipici del territorio. Grazie.